L'accusa di avere spacciato cocaina a Caltanissetta e San Cataldo è costata il carcere al nisseno Giuseppe Notarrigo, 33 anni, e al San Cataldese Francesco Casagni, 25 anni, arrestati dalla squadra mobile di Caltanissetta su ordinanza del GIP. Gli investigatori, tra il settembre del 2021 e il febbraio di quest'anno, hanno documentato una serie di episodi di spaccio di polvere bianca. Dopo aver messo insieme tutti gli elementi necessari, la procura nissena ha chiesto e ottenuto l'applicazione di una misura cautelare. Nei mesi scorsi gli investigatori della mobile avevano eseguito diversi arresti per spaccio di cocaina e segnalato numerosi assuntori. Ora si attende che i due presunti pusher vengano interrogati dal giudice.